Ciao a tutti! Oggi vediamo queste forbici. Si tratta di forbici con la punta arrotondata. In particolare sono indicate per i peli del naso, delle orecchie, parti delicate oppure le unghie dei piccoli bebè. Abbiamo due possibilità, questa un po' più piccola, in acciaio nichelato a un taglio perfetto, lame perfette, tutte fatte a mano. Una è un po' più lunga, questa più lunga è in acciaio inox. Si tratta di articoli della ditta Pomoni di Premana, in provincia di Lecco, dove da tre generazioni si occupano di lame, forbici professionali, tutto made in Italy, qui vediamo quelle nichelate. Se vi interessano queste forbici o altre, potete trovarle sul nostro sito elettronicadidattica.com oltre alle forbici abbiamo anche coltelli e attrezzi per manicure, pedicure e cura della persona. Vi aspettiamo per il prossimo video, continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale. Ciao a presto!